Il Comune è in attesa del PEF, il piano economico finanziario da parte dell'AMA che gestirà per fare una valutazione assieme alla Giunta. Solo in base a questo si riuscirà a capire quali saranno i tempi di ripredisposizione delle strisce blu per riparcheggio a pagamento in centro. Quindi entro l'estate è una tempistica che ad oggi non si riesce a dare. La conferma arriva a rete 8 da parte dell'assessore alla mobilità Paola Giuliani. Ci sono insomma ancora dei nodi da sciogliere. L'AMA, come si sa, voto l'incarico dal Comune, deve consegnare a breve studio di fattibilità e PEF, piano economico finanziario. È in corso di predisposizione il PEF, conferma oggi l'amministratore unico di AMA, Auguste Quizzi, a rete 8. Uno dei nodi riguarda il megaparcheggio. Tornerà a pagamento parallelamente al ritorno delle strisce blu? L'assessore Giuliani su questa ha una posizione ben precisa che conferma. Ritengo, dice, che sia corretto mantenere i posteggi gratuiti al termine a Lorenzo Natali, fino a che non sarà ripristinato l'uso del tapirulan che arriva in piazza, ma anche sino a quando non saranno terminati i lavori della Regione per il collegamento meccanizzato con Via Lerendina, come i lavori che farà breve la tua per un restyling dei locali. Dunque, l'idea è di riportare i parcheggi a pagamento in centro, ma non al termine al di Colle Maggio. Anche le associazioni di categoria locali chiedono conto al comune, a breve potrebbe esserci un incontro. Il ritorno ai parcheggi a pagamento dovrebbe riguardare la zona dalla villa al corso, sul lato sinistro, e poi su Via Lerendina, Piazza Nove Martiri, Santa Mera di Farfa, San Bernardino e Via Zara. L'amministrazione, come ha spiegato la Giuliani, ha già fatto una ricognizione degli stagli attuali, che si aggirano tra le 1000 e le 1500 unità. Ovviamente c'è da considerare il parcheggio per le attività commerciali e residenti, che attualmente sono contrassegnati da strisce arancioni. Molti utenti del centro lamentano che questi spesso durante la giornata rimangono vuoti, e dunque anche in questo caso si potrebbe studiare una soluzione ad orari, per consentire il parcheggio agli altri cittadini durante le ore in cui questi non sono occupati. Le strisce blu, in un primo momento, non dovrebbero riguardare la piazza, ma una volta terminato il restyling nella parte alta, dovrebbero essere previsti dei parcheggi, in attesa della gognata pedonalizzazione. Grazie.